Non possiamo fare le battaglie contro le plastiche nei mari e poi trovarcele nei concimi dell'insalata che finisce sulle nostre tavole. Il vice sindaco di Vighizzolo d'Este, David Girotto, dirigente provinciale di Fratelli d'Italia, chiede al più presto chiarezza sulla presunta presenza di plastiche e materiali inquinanti nel compost prodotto dalla società estense SESA. Girotto si è rivolto al collega di partito, il parlamentare Luca De Carlo, che ha predisposto una interrogazione scritta al Ministro dell'Ambiente Sergio Costa.